Altra città... E spiantano bene... Pere no però, Raffaele. Ah, che pere? Sì, c'è pure pere. E quale qualità? Quelle d'inverno? Quelle d'inverno. Eh? Eh... E tutte qualità? No, non tutte qualità. Sono i kaiser e... Ah, bella quella che piacciono. Eh, cos'è come si chiama? Ecco perché dottore così. Ma sai che... Mi rendo conto che da parecchi anni che non le mangia i kaiser. Ah, sì? Rimovi il giacca, aiuta a togliere la giacca di Samuel pa. E' pure chiusa. Cosa? Oh, c'è una chiesta? Sì. Eh... Eh... Ehm... 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 Tutto questo qua non c'era. Ah... Allora tanti vanni che tu non sei. Sì, saranno una decina d'anni che non becco. Molto decine sicuro. C'è pure lo spettacolo che hanno fatto. Ma quando? Stasera o... Ah? Stanno preparando adesso? Sì. 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 No, mi sembra che per stasera... Si può girare? Eh? Posso andare? Vado? Sì. Grazie. Sì. E' festa? C'è una festa stasera. Eh, pure qua ci sono i cose. E qui... Eh, questo è sempre fanno festa quando ragazzi. Eh? Vado a preparare quella? Tavoli, tavolini e cose. Sono terribile questo. Ti vado a vedere il fattore. Questo è un po' da giù. Oh mamma mia. Ah, fanno da festa stasera qua. Eh. Guarda che c'è laggiù qua. Sì, quella che... La montagna, l'hai vista? La montagna. Eccola là. Ah. Ho fatto pure la foto. Oh, sicuramente se non lo faccio. Per fare qualcosa. Eh sì. Eh? Sicuramente. Pure qua sono per bene tavolini per mangiare, vedi? Mmh. Questo è portare cansegna. Sì. Ho girato. Ho girato. Ho girato. Ho girato perché qua... Ecco. 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 E' un po' di setan. Eh, tu stai ancora? E' un po' di setan. Non è che cadi qui, eh? Ma non male che piccola poco a poco. Beh, bene, eh. Si, hai messo la lavante. Dammi. Ma. Ma come ci senti salita. E' un paio. Ma come ci senti salita?